Tre parole che mi hanno cambiato la vita. La cosa più importante che mi ha insegnato mio padre. Ok, story time. Avevo tre anni. Stavo a casa di mia nonna. Papà mi chiama e mi fa... Posa lo zaino e vieni in macchina. Io faccio... Ok, obbediente, poso le mie cose e seguo. E vieni così senza neanche chiedere perché. Perché solo il muratore non chiede perché. Chiediti sempre perché. No, muratore, papà è ingegnere. Per lui il muratore è proprio, come posso dire, la bestia da lavoro. Quello che esegue, lo schiavo. Però il punto è che quando decidi tu, non puoi più permetterti di non sapere perché fai quello che fai. Perché credi a questo o quello. Perché lavori. Perché vivi. Perché fai una cosa piuttosto che un'altra in generale. Perché di qualunque cosa. Quindi, se vuoi essere libero, chiediti sempre perché.